Ciao Pasquale, ben ritrovati, eccoci qui, come stai? Io sono benissimo, ciao amici, come state? Ma che bello! Avete passato una bella estate? Io bellissima, però non vedevo l'ora di riprendere. Anche io, anche noi, e ancora benvenuti nel podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, io sono Pasquale, per i nuovi... Io sono Gliocinto e se ci stai ascoltando sui canali podcast potresti essere su Spotify, piuttosto che su Google Podcast, ovunque ben trovato, oppure novità di questa stagione che inizia ufficialmente oggi e anche da parte video, quindi puoi guardare questa puntata direttamente sulla nostra AI Play, la nostra piattaforma video. E allora, andiamo subito nel vivo perché in questo episodio racconteremo tre delle novità più del momento, no? Possiamo dire quelle più interessanti che abbiamo selezionato per voi su cui concentriamo la nostra attenzione. Ne sono tre, partiremo subito a bomba con la Cina che vuole competere assolutamente con ChatCPT sugli assistenti vocali. AI Generativa, sì, infatti parleremo di quello, parleremo di come l'intelligenza artificiale entra nei nostri piatti in tavola. Esatto. Di come sta infatti contribuendo a tante attività nel mondo del food. E per tutti gli appassionati di iPhone, fermi lì perché iOS 17 ha una grande novità che duplica la tua voce. Ma entriamo nel vivo, una per una. Dai, qual è la prima? Iniziamo. Allora, partiamo subito con la Cina che accelera e veramente preme sull'acceleratore per rincorrere gli americani nella grande sfida dell'AI Generativa sulla voce. Parliamo, Pasquale, dell'azienda numero uno, possiamo dire, che compete con Google lì in Cina che è Baidu. Sì, infatti il motore di ricerca cinese, il più grande in lingua cinese, ha avuto l'ok da un ente lì preposto in Cina che dà le autorizzazioni del mondo digitale. Quindi tutti i nuovi rilasci, l'ok su utilizzare il loro bot che è un po' una sorta di competitor appunto, di chatbot, si chiama Ernie Bot, dovrebbe pronunciarsi così, o ha scritto Ernie Bot. Ernie, se volete andare a cercare su Google Ernie Bot, rilasciato qualche giorno fa ai cinesi, 31 di agosto, quindi davvero pochi giorni fa, è stato reso disponibile. La sfida è, hanno dichiarato, su quattro fronti. La prima è lavorare sulla comprensione. Questo chatbot deve essere in grado di comprendere in maniera perfetta. Che è molto spesso una delle sfide più complicate in questo mondo. e poi ancora la generazione, quindi poter creare dei contenuti che sono pertinenti rispetto alle richieste degli utenti, saper anche ragionare, quindi la capacità di essere in grado di elaborare un concetto, poi in ultimo la memoria. Memorizzare, perché a molte persone, devo dire che ultimamente anche io inizio a soffrire un po' di memoria quando mi chiamano Pasquale, non so se si chiama Pasquale, Pasqualito, Pasqualino, però insomma sono là, la memoria è la nuova sfida degli assistenti virtuali. C'è anche un discorso di normativa. Per la prima volta la Cina ha aperto con questa normativa alle AI generativa. C'era un blocco, prima Pasquale, dobbiamo dirlo, tutte le applicazioni di AI generativa dovevano passare da un controllo, da un setaccio regolatorio molto ferreo. A quanto pare questo setaccio è stato tolto. Sì, esatto, diciamo che le maglie si sono un po' allargate, infatti Baidu non è l'unica a poter rilasciare la propria intelligenza artificiale generativa, chiaramente lo fa un colosso come Baidu, quindi fa notizia, ma ne sentiremo parlare anche di altre. Esatto, e allora passiamo alla seconda news. Seconda news. Siamo nel mondo del food, l'intelligenza artificiale è già nel piatto, così intitola l'agenzia digitale 360, ecco come sta trasformando il mondo del food. Sono tantissimi gli ambiti, no? Sì, sono tantissimi gli ambiti. Partiamo dall'agricoltura, perché è lì che si fa sostenibilità e si fa ricerca, grazie anche alla raccolta dei dati che viene effettuata lì, è il caso di dirlo, sul campo. C'è un problema, il primo è una copertura che è legata alla rete, che non è così presente nelle campagne italiane, ma da quello che dichiarano in agenda digitale, quest'anno e sono stati monitorati un incremento dell'8% di progetti realizzati proprio in agricoltura 4.0, Pasquale. Eh sì, perché la difficoltà maggiore in realtà sta nel cambiare e raccogliere questi dati, no? Quindi utilizzare lì sul campo, nel territorio, quelle che sono le tecnologie per recuperare questi dati, perché poi tanto con l'intelligenza artificiale si può usare qualcosa da utilizzare, qualcosa da tirare fuori, sicuramente nell'ambito delle culture, sicuramente nell'ambito delle nuove, anche sperimentazioni. Esatto, perché questa è una cosa fondamentale, l'AI generativa non è soltanto nel testo, nelle immagini, ma si riesce a generare una nuova forma, un nuovo prodotto di pianta o un prodotto che può essere coltivato nel terreno grazie all'intersezione di tutti questi dati, l'elaborazione di questi dati, e quindi può essere una pianta che resiste più o meno alla siccità in un certo territorio, oppure resiste ad alcuni specifici parassiti. Pensiamo alle nostre culture pugliesi dell'olio, insomma questa attività sarebbe molto interessante. C'è un problema però di proprietà intellettuale. Eh sì, esatto, perché poi tra tutti questi dati, tra tutti questi algoritmi, poi che facciamo? Li lasciamo nelle singole aziende oppure possono essere messi in comune, possono essere resi disponibili tra tutti, e quindi il tema è riuscire poi a poter brevettare con la nuova pianta di pomodoro o quel nuovo uliveto da poter piantare in Puglia, è brevettabile una produzione generata dall'intelligenza artificiale? A questo insomma ci si richiama chiaramente al legislatore, che come immagini è in questo momento in pieno lavoro Pasquale, perché le novità sono tantissime. Sono tantissime, passiamo alla prossima news. Passiamo alla prossima news e quindi come in iOS 17 è possibile clonare la tua voce, ma soprattutto Pasquale perché? Perché Apple sostiene utile, secondo ecco Apple dice che è utile, questa nuova funzionalità in iOS 17 per dare la possibilità a chi la voce la sta perdendo e quindi cercare di conservarla e anche poter utilizzare la propria voce poi con il tempo e lo fa attraverso anche un algoritmo di intelligenza artificiale. Esatto, quindi è una sorta di banca della tua voce, ma può essere già utilizzata per trasformare un messaggio di testo in un messaggio vocale. Quando si mangia un messaggino su WhatsApp piuttosto che con SMS, scrivendolo poi si trasforma direttamente con la tua voce all'interno del messaggio. Per realizzarlo, dicono, io non l'ho ancora sperimentato perché insomma sei tu quello tra i due che segue Apple, io sono più su Android. Adesso ci... no, perché lì ci vogliono 30 minuti di elaborazione. Sì, infatti, bisogna leggere 150 frasi e quindi allenare questo algoritmo. Un piccolo sforzo, esatto, la funzione si chiama Personal Voice e ti dà appunto la possibilità prima di cercare di comprendere, di immagazzinare qual è il tuo tono di voce, quali sono le tue caratteristiche, le caratteristiche della tua voce anzi, e quindi successivamente poterla utilizzare. È interessante questa news perché apre un tema che in questo momento è molto caldo. Abbiamo vissuto il momento degli attori statunitessi che sono in sciopero, in protesta, proprio perché, per esempio, la propria voce può essere utilizzata all'interno dei film e poveri doppiatori, che ne sa. E quindi, insomma, c'è tutta questa tematica aperta che seguiremo anche per voi e vi teremo informati. Allora, questa puntata volge al termine, Giacinto, la prima di questa nuova stagione già finita, tre news sono volate. Noi, chiaramente, per i nuovi, siamo a disposizione per tutte le vostre curiosità sul mondo dell'intelligenza artificiale. Vi ricordo, i nostri canali ci potete rintracciare sul LinkedIn Pasquale Viscanti, Giacinto Fiore, intelligenza artificiale spiegata semplice. Se non ci trovate, fatecelo sapere, perché è preoccupante. Noi ci vediamo al prossimo episodio, qui, sempre sugli stessi canali, oppure cambia, ma sempre di lunedì ci vediamo sul web. Ciao! Spingi e poi fai te.